Dopo un anno di distanza è davvero bello. Meraviglioso, ma perché fa bene proprio la formazione dei ragazzi. Bellissimo, bellissimo rispetto a prima che si andava a lezione, a farla aperta è mille volte meglio secondo me. Una liberazione, una gioia, tornare in aula per questi studenti di scienze politiche dell'Università di Padova. Un'aula un po' speciale perché, grazie alla professoressa Costanza Margiotta, che insegna Filosofia del Diritto, la lezione si è tenuta ai Giardini Appiani di Via Marghera, sotto le pagode che ad inizio del Novecento erano state costruite proprio per permettere, in tempo di pandemia, di seguire le lezioni. Ho pensato che i miei studenti e io meritassimo ancora delle lezioni in presenza perché ancora una volta è rimasto aperto quasi tutto, tranne la scuola e l'Università. Il mio ateneo ha fatto tantissimo perché l'Università potesse rimanere aperta, ha investito molti soldi per la sicurezza degli studenti, ha vaccinato tutto il personale docente. Io credo che la scelta di rimandarci di nuovo tutti in didattica a distanza sia profondamente sbagliato. 35 gli studenti che hanno adorito a questa iniziativa, in collaborazione anche con l'Associazione Priorità alla Scuola, che non è una manifestazione estemporanea, ma proseguirà nei prossimi giorni. Io ho già fatto lezione ieri in Prato della Valle, faccio sempre lezione garantendo la didattica a distanza, uso esattamente lo stesso metodo che nelle aule, presenza e distanza, ma è molto diversa quando la faccio anche in presenza perché ho il contatto con gli studenti, ho la loro intelligenza che aumenta la mia intelligenza. Domani dovremo essere di nuovo in Prato della Valle, come ieri, augurandosi che la meteo tenga. Riportare gli studenti in aula, seppur all'aperto, deve diventare una priorità per il Governo. La presenza è uno dei fattori che ci aiuta di più a far sì che gli aspetti della salute, che include anche quella, non solamente quella filosologica, ma anche quella psicofisica, vengano rispettati. Per questo credo sia importante fare lezioni in presenza e ho aderito all'iniziativa della professoressa.